Buongiorno, oggi celebriamo la memoria di un altro grandissimo santo, San Giovanni della Croce, fondatore, su ispirazione di Teresa Davida, dei carmelitani scalzi, cioè della riforma della vita carmelitana di questo ordine antico, riportato con decisione a un vissuto di radicalità evangelica a imitazione delle sorelle monache carmelitane, Giovanni della Croce, spagnolo, ha pagato di persona questo suo impegno per un ritorno alla sequela radicale di Cristo, essendo anche incarcerato per la sua decisione nel cercare uno stile di vita austero fondato su una preghiera autentica che rinnova la vita quotidiana, superando quelle tentazioni di comodità che nel 1500, come oggi, attraversavano la Chiesa e di un Vangelo che paga decisamente le conseguenze di un vissuto autentico, ci parla anche del brano che ascoltiamo oggi al capitolo 11 di Matteo, versetti dall'11 al 15. Gesù, esaltando la figura di Giovanni il Battista, il più grande fra i nati di donna, mette però in evidenza la logica di questa grandezza, poiché, dice Gesù, il più piccolo che incontriamo su questa terra è più grande di Giovanni. La piccolezza, quindi, è grandezza agli occhi di Dio e la logica del regno è una logica che sconvolge la mentalità del mondo e, difatti, Gesù dice che il regno di Dio viene attaccato e sono i violenti ad impadronirsene. Questa frase la possiamo leggere proprio pensando alla sorte del Battista stesso, incarcerato e ucciso, e di Giovanni, appunto, Giovanni della Croce, che ha passato i suoi giorni in prigione a causa della sua voglia autentica di vivere il regno qui sulla terra. Ma di questa violenza subita possiamo anche coglierne un aspetto al contrario, perché in realtà per impadronirsi davvero del regno, cioè per entrare a farne parte, c'è pure bisogno di grinta e decisione. Ed ecco allora che guardiamo allo stesso Battista, paragonato da Gesù ad Elia e a Giovanni della Croce, per coglierne il coraggio, la determinazione e la forza di andare controcorrente, fino a pagare di persona la legge dell'amore che scelgono di vivere. Ci vuole grinta, forza, decisione, proprio una forza anche violenta verso le proprie paure e le proprie resistenze, per essere coerenti con questa scelta che porta a incarnare i vissuti dal regno di Dio qui adesso, anche quando questo costa e fa pagare di persona. E allora ecco, non dobbiamo avere paura di riconoscere che dentro di noi c'è dell'aggressività e della rabbia che può essere investita decisamente a favore dei valori del regno. In caso contrario la utilizzeremo per contrastarli, come appunto è capitato ai persecutori di questi uomini santi. non si tratta allora di avere paura della propria rabbia, ma di decidere come utilizzarla, dove orientarla, che cosa farne, perché possa essere strumento di salvezza anche per gli altri, oppure al contrario rischia di diventare, se lasciata libera per conto proprio, un ostacolo alla realizzazione del regno. Chiediamo al Signore la grazia di scoprire la strada migliore, l'orientamento è l'orizzonte giusto, dove investire le energie della nostra grinta di vivere, perché l'amore è anche coraggio e anche determinazione, altrimenti non può sopportare le intemperie dell'esistenza. Buona giornata.